La Formula SAE Sono divisi in varie autodromi in tutto il mondo Quindi passione per i motori anche all'interno dell'università E come ti è venuta? Esattamente Beh allora io faccio parte del Dynamis PRC Che è il team del Politecnico di Milano Faccio parte da tre anni E sono entrato tre anni fa ovvero al mio primo anno di università Quindi subito il primo anno E erano proprio i primi mesi di università Girando per l'Ateneo alla ricerca dell'aula in cui fare lezione Ho conosciuto questi ragazzi Fin da subito ho detto È un'esperienza edificante E sono entrato a far parte di questo team Sono andato prima a seguire la conferenza Dove mi si presentava cosa è la Formula SAE Cosa fa all'interno del Politecnico Cosa avrei potuto e cosa avrei dovuto fare io E poi c'è stato il test d'ingresso, il colloquio E quest'anno grandissima conclusione Arrivate al Motor Show Come sarà? Sì abbiamo già partecipato al Motor Show anche l'anno scorso Quest'anno La novità di quest'anno è che Grazie all'organizzazione di Motor Show Riusciremo non solo noi ma anche gli altri team Di Formula SAE di tutta Italia A fare anche un evento dinamico Quindi parteciperemo anche attivamente a correre in pista Allora vi aspetta lo spettacolo dell'Avia 48 Esatto Bravo